Dopo la Serie A anche la Lega Pro decide lo stop per l'emergenza coronavirus, uno stop piuttosto vigoroso. Saltano infatti i prossimi due turni di campionato, quello infrasettimanale che si doveva giocare mercoledì prossimo e che vedeva il match attesissimo tra Rezzo e Siena e poi quello di domenica prossima, primo marzo, in cui l'Arezzo era di scena in casa dell'Alessandria. La decisione della Lega è arrivata dopo le comunicazioni dell'autorità competenti e il fatto di rinviare tutte le partite è dettato dal garantire l'equilibrio e la regolarità della competizione. Le date di recuperi sono già state stabilite, mercoledì 11 marzo saranno recuperate le gare che si dovevano disputare nell'ultimo weekend, già nel Mignocomo, l'Eco Pro Patria e Pro Vercelli Novara. Mercoledì 18 marzo invece sarà recuperato l'infrasettimanale che si doveva giocare mercoledì prossimo e quindi il derby tra Rezzo e Siena, mentre il 14 aprile ci sarà il recupero dell'intera decima giornata quando l'Arezzo sarà di scena ad Alessandria, sperando che nel frattempo l'emergenza coronavirus sia rientrata.